Basta! Mauro Biglino è assurdo. Egli è come un cieco che pretende di accecare con la sua cecità chi vede nella Bibbia il sublime e il divino. È come chi dica che una poesia non è sublime perché tutti coloro che la leggono sono affascinati in modi diversi e contraddittori. Per Biglino essa è forse sublime solo se tutti capiscono solo quello che c'è scritto? È proprio allora che non sarebbe più sublime. Dunque studi la Bibbia come vuole ma non pretenda cieco come è di volere insegnare a coloro che ci vedono con ampiezza che non c'è niente da vedere. È la stessa pretesa di un cieco che trovandosi con uno che invece vede luci e colori pretenda di dire a costoro che si sbagliano perché non c'è proprio niente da vedere dato che egli non vede nulla. Questa storia di Biglino che io ho affrontato con dolcezza adesso la devo affrontare proprio con schiettezza. Biglino è un cieco che pretende di dire a coloro che vedono il divino e il sacro nella Bibbia che loro fanno male a vedere perché essendo il cieco Biglino loro che ci vedono non vanno bene. Ve l'immaginate un cieco che discuta con uno che ci vede e gli dice no ma tu non vedi come fai a dire che c'è la luce? Dov'è la luce che non c'è? Ecco un cieco pretende di correggere quelli che ci vedono dicendo che sbagliano a vedere e vi spiego esattamente l'errore madornale, madornale, madornale inaccettabile in una persona che cerchi il divino. E vi faccio un esempio preciso. Prendiamo una poesia che sfiora il senso del divino. Prendo la poesia del Neopardi, l'infinito. Allora questa poesia evoca proprio il senso di un trascendere, un divino nel mondo della poesia. Allora immaginate che ci sono tanti che la leggono e fanno una bella discussione. Allora arriva uno e esprime il giudizio critico in questo modo. La poesia mi suggerisce questo, questo e questo. Arriva un altro e lo corregge e dice ma non hai considerato quella siepe oltre la quale io vedo l'infinito? E qui il valore. interviene ancora un altro e dice sì, però non hai considerato il momento storico nel quale si trovava i leopardi. Interviene un altro ancora e un altro ancora. Di fronte a una poesia veramente leggiadra che ispira in infiniti modi, ossia sfiora il divino, ci sono cento reazioni diverse. Interviene Bellino e dice ah allora non è divina, perché? E' perché è confusa. Uno vede una cosa, un altro ne vede un'altra, un altro ne vede un'altra, dunque non è divina. Capite la sciocchezza colossale che fa Bellino? Bellino pensa che il divino sia il determinato in una soluzione sola, unica, povera. E invece il divino è tale che lo stesso testo, visto da uno, è idealizzato in un modo. visto da un altro, è idealizzato in un altro. Visto da un terzo ancora, è idealizzato da un altro ancora. Così ci si comporta davanti una poesia sublime. Il sublime è simile al divino, perché eleva il sublime. Ora, di fronte alla Bibbia che è un libro sublime e suscita questo, ci troviamo di fronte a queste condizioni. Mentre la poesia dei leopardi è precisa, eh? Lì il testo, le virgole, tutto è preciso. E quindi già le reazioni sono delimitate soltanto in certi aspetti di trascendenza. Nella Bibbia è ancora di più, perché? È perché date tre consonanti, se ci metti l'A o la E o la I, hai il modo di trascendere ancora di più, perché quella parola lì può significare questo, questo, questo. Allora, se le reazioni di fronte alla poesia infinito sono limitate, il modo di vedere la Bibbia che ogni traduttore ha, lo porta a vedere nella Bibbia quello che cerca e lo vede. Perché di quelle parole, tre consonanti, ci vede una E e non una A. Sbaglia? No. Perché tre consonanti permettono di vedere la E, la I, la U. I maggioretti a un certo punto si sono messi lì a codificare quali erano le vocali. Ma io boccio i maggioretti. Perché? È perché erano solo le consonanti. Aggiungere le vocali riduce l'interpretazione. Riducendo l'interpretazione diminuisce il senso del divino. Il senso del divino si ha proprio quando tre consonanti possono evocare una parola, l'altra, 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 un contenuto, l'altro, l'altro. E più contenuti vasti sono tenuti, più andiamo verso il divino. Cosa dice invece il genio divino? Eh no! Errore! Ah, polenta! Sì, perché? Andiamo nella polenta. Perché una parola può essere questo, può essere questo, può essere questo. Allora non è un discorso divino, è proprio un discorso divino. Biglino non ha proprio occhi per capire che cosa sia il divino. Il divino è trascendente. Se una parola fosse precisa, già il modo di trascenderla, visto che è precisa, è limitato. Ma visto che ci sono solo le consonanti e se ci mettiamo una vocale, l'altra o l'altra, abbiamo sensi diversi, ecco uno strumento che, affrontato da persone diverse, con un atteggiamento di ricerca diversa, e devono tradurre, secondo uno ci vede questo, secondo l'altro ci vede quest'altro. Ebbene, è la ricchezza di tutto ciò che esiste nel divino, non la povertà. Insomma, divino è un cieco per quello che è divino. Cerca il reale, cerca di fissare una cosa, tanto che non si possa trascenderla. E invece è così ricca, proprio perché mancano le vocali, e quindi il senso può essere al diritto o al rovescio, fino alla contraddizione più estrema, tanto che nella Bibbia sia possibile leggere tutto, e è uno strumento elastico, molto elastico, che risponde proprio alle intenzioni di chi lo affronta per cercare e trovargli la risposta alle sue aspettative. Trascendente. E visto che la cerca in una parola, per esempio, con tre consonanti, e per lui quella parola è quella, e la usa, fa bene, perché è possibile che sia anche quella. Un altro, dentro quelle tre consonanti, vede un'altra parola? Ecco un altro modo ricco di vedere nel testo ancora di più, andiamo più verso la generalità di una opera trascendente, di una opera sublime. Quindi proprio quello che per lui è un sintomo di un polentone, è proprio quel sintomo di quella ricchezza, tale che chi cerca il divino lo trova a modo suo. Questo è il divino. Volete impedire a chi legge una poesia, come l'esempio che vi ho fatto io, di reagire nella libertà del suo spirito? Non deve? Perché l'interpretazione di quella poesia la deve stabilire solo quel critico, quell'altro, quell'altro? Allora quella non è più una poesia. Non parla più alla generalità delle persone, ma solo a quelli che sono confermati come quel critico lì. Insomma, il divino è la risposta alla ricerca umana. E la ricerca umana deve trovare una risposta, proprio in relazione alla ricerca che fa. Vedete? E mi ritrovo di fronte a persone che non capiscono il divino. E di conseguenza, visto che Biglino è un cieco per queste cose qui, pretende di insegnare a quelli che lo vedono che sbagliano a vederlo. Perché lui che è cieco ci vede. Gli altri che invece ci vedono sono ciechi. Insomma, è ribaltato proprio tutto quanto. E poi, ripeto, parte da premesse molto limitate e pretende di arrivare a conclusioni che sono paradossali. Proprio Biglino è fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori. Io vado contro questa interpretazione beceva di Biglino. E di tutti quanti voi che siete beceri, anche voi, se pensate che il divino sia in una realtà fissa, in un modo tale che non si scappa da lì. Quello non è divino. Quello è reale. Il divino trascende il reale. Sapete cosa vuol dire trascendere? Che vi dice e vi rivela tutto quello che manca in quella parola. Ora è chiaro, l'ho già detto. A una parola che mancano le vocali è possibile una gamma ancora di più. Perché, aggiungendo le vocali, si possono fare quattro, cinque, sei parole diverse. E chi cerca trova. Nel modo che cerca. E di fronte a una traduzione che si arrivi a cento Bibbie diverse, siamo proprio di fronte a quella poesia che abbiamo detto prima in cui, per spiegare tutto il senso lirico, poetico di quella poesia, si fa una raccolta di giudizi critici e ciascuno ci vede quello che ci vede. Più sono le condizioni che portano a essere evocate da un testo più è divino. Ma chi non giudica come si deve è perché è cieco e pretende di insegnare a chi ci vede che sbaglia a vederci. Siamo al paradosso di un cieco che vuole guidare quelli che ci vedono.